Ciao a tutti e benvenuti in questo secondo video di oggi. Se avete visto il video di prima, ho creato oggi il canale e infatti mi sono anche iscritto su Youtube e queste cose, su Google. Ora farò un video di mia sorella, io mi chiamo Henry, che c'è scritto anche il nome, e io mi chiamo Esther. E oggi facciamo un gioco che si chiama Mora Cinese, ora vi spiegheremo tutto. Ora che vedete il video, vi ricordo di iscrivervi, se volete iscrivervi, commentate e mettete un mi piace. Ecco, ora noi vi spieghiamo il gioco. Allora, si incomincia con Mora Cinese. Praticamente, se io faccio forbice e lei sasso, come sapete è come sasso a casa forbice, solo che ci sono delle tipo di torture. E' tipo, io a lui devo farlo forte, qua. Qua, sulla spalla, perché quando c'è la forbice, come sapete il sasso distrugge la forbice. E allora deve fare un colpo qua. Se invece è con carta e lei sasso, allora praticamente io la prendo e lei deve mettere le mani così, e io così e poi così. Praticamente una volta così, una volta così, una volta così e una volta così, con questa parte della mano. E poi se c'è invece con la forbice e la carta, praticamente taglia e lei deve mettere la mano dritta, e qua dove c'è questa parte che si muove anche il braccio, praticamente devi fare forte qui. Ma io non è che lo faccio forte perché non la voglio far male, ok? No, non è che. E buona visione, ora incominciamo. Mora cinese, mora cinese. Dai. Ah, sì, era questa. Mora cinese, mora cinese. Quindi... Mora cinese, mora cinese. Mora cinese. Mora cinese. Oh, mi ho sbagliato. Mora cinese, mora cinese. No. Mora cinese, mora cinese. 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 Male? È un pochino qua. Mora cinese. Mora cinese. Avvio? Fatta male? Allora, sono bastati già tre minuti, diciamo quattro. Fra qualche minuto finiamo. Fra un minuto. Perché non deve durare molto, altrimenti poi incomincia a fare dolore anche alla spalla e al braccio. E alle mani. E anche... Sì, anche qua alle mani, la parte delle dita. Mora cinese. Mora cinese. Mora cinese. Mora cinese. Mora cinese. Ah, ok. Ma dai, sembra la stessa roba. Ok, ne facciamo ancora tre. Mora cinese. 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 vinto ha vinto mia sorella un applauso solo per grazie grazie per aver visto questo video e se vi è piaciuto questo video mettete un commento oppure se non vi è piaciuto dite comunque qualcosa oppure mettete un mi piace e se non vi siete iscritti iscrivetevi perché vorrei che mi seguiste così solo per essere un po' diciamo famoso ma non è che mi interessa molto mi interessa cioè far divertire le persone questo è bello vi ringrazio per aver visto questo video iscrivetevi mettete un commento mi piace e mettete il pollice su come avevo detto e grazie e ci vediamo nel prossimo video ciao ciao